Questo programma contiene linguaggio volgare, riferimenti sessuali, scene di dolore e tatuaggi scandalosi. Spero che non sia un pisello. Non lo dire neanche per scherzo. Mamma, ora sono abbastanza nervosa. Hai già superato un momento che ti ha cambiato la vita e ora potresti doverne superare un altro. Wow, sono agitatissima. Charles, che cosa hai fatto? La regina del male è tornata. Oh, wow. È un tatuaggio che cambia la vita. Spero che non sia una cosa folle, Bola Walsh. È il tatuaggio più visibile che ho. E lo vedranno tutti. Oh, mamma mia. Poniamo fine a questa angoscia? Sì. Partiamo a contare da tre? Sì! Tre. Due. Bola? Uno. Puoi toglierti gli occhiali, Michelle. Grazie. Buona, per favore, spiegaci il significato del tatuaggio. Ne hai passate tante. La farfalla simboleggia il tuo percorso e la persona meravigliosa che sei. Scusate. Scusate. È sinceramente il tatuaggio più bello che io abbia mai visto. È veramente meraviglioso. Io non avrei mai scelto una cosa del genere, ma... Grazie. Lo adoro. Grazie. 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 Grazie.